Altra cosa che vorrei dire, qui oggi mi presento insieme a Francesca Cecchini. Ci candidiamo per rilanciare e cambiare le marche. Davide Del Vecchio e Francesca Cecchini hanno inaugurato sabato scorso la sede elettorale in piazza 20 Settembre a Fano. A meno di un mese dalle votazioni, i due candidati al Consiglio regionale per l'Udc hanno dato ufficialmente il via alla campagna elettorale. Vorremmo nei prossimi giorni incontrare tanti cittadini delle varie parti sociali e del vario tessuto della nostra città per capire da loro e comprendere da loro i loro bisogni e le loro esigenze. Vorremmo confrontarci e quindi sarà un luogo aperto questa sede. Noi vogliamo andare a cambiare le marche. Cambiamo le marche è il nostro slogan. Vorremmo andare a fare qualcosa di più per questa regione che per troppo tempo è stata lasciata all'abbandono dalle istituzioni all'interno del comparto sanità, delle infrastrutture, del rilancio dell'economia che sono politiche assenti nel centro-sinistra. Il percorso per cambiare la regione inizia oggi a proseguito Del Vecchio che ha elencato le priorità e i temi sui quali si batteranno. Udc ha precisato Cecchini ha come fondamento la famiglia e questo periodo di emergenza sanitaria ha messo in evidenza le tante lacune nel settore del sociale. Le famiglie sono lasciate in totale abbandono e tra le quattro mura domestiche succede di tutto. Quindi chi ha figli disabili, con disabilità, persone non autosufficienti, relegate dentro le quattro mura domestiche fanno fatica ad andare avanti. E quindi è necessario dare un supporto alle famiglie che non sia solo un sostegno esterno, ma dare la possibilità alle famiglie di essere autonome nella scelta di questa gestione e dell'aiuto. Per questo, a riferito alla Cecchina, abbiamo inserito nel programma un sostegno economico mediante un assegno mensile fino a un massimo di 800 euro. Invece il candidato governatore per il centrodestra, Francesco Acquaroli, ha ricordato gli assi sui quali punta la coalizione. Sanità, infrastrutture, ricostruzione delle zone terremotate e lavoro. Il lavoro, perché noi abbiamo una grande crisi occupazionale, una grave crisi a livello di imprese, che nel sistema della globalizzazione devono trovare nelle istituzioni un sostegno importante per poter rilanciare il loro ruolo economico e sociale. Presenti alla cerimonia anche il gruppo della nuova Fano, che sostiene l'Udc, e il senatore Antonio Saccone. Abbiamo messo in campo una lista di volti nuovi, giovani, persone competenti e che soprattutto stimolate nel voler far uscire le marche dal pantano dell'immobilismo. Vogliamo puntare soprattutto sulle infrastrutture, per noi democratici cristiani i lavori pubblici sono un volano dell'economia, e vogliamo puntare l'attenzione sulla sanità, che oggi è troppo sviluppata sul settore privato e poco sul settore pubblico. Nelle Marche per avere un esame diagnostico bisogna aspettare all'incirca nove mesi, e per noi democratici cristiani è intollerabile. Cosa che va oltre? Brindiamo a noi!